Deve fare un sacco di cose Posso dire la parola solo un instante? Sì, mi lasci dire solo una cosa Ringrazio intanto lei per le parole che ha detto a me che confronti anche lei Un'osservazione generale che il Presidente di Natale secondo me potrà apprezzare insieme con tutti voi Io ho avuto qua una bellissima e rara ormai Io giro per il Paese Io sto a Roma come vi ho già detto ho detto tutto basta dire Roma in questi giorni si capisce ma giro per il Paese noto sempre più raramente la motivazione e la motivazione quindi la professionalità che si percepisce nei nostri interventi la motivazione è la serenità qui c'è tutto l'opposto di quello che si percepisce generalmente laddove in qualche modo si ha a che fare con la politica e con tutti i suoi naturalmente agganci e emanazioni istituzionali di solito c'è lo stress c'è la tensione c'è questa idea sempre del derby da de qua stai de là de qua de là che ormai ci ha reso completamente privi di lucidità invece la contraria e ve lo dico senza come spirito di captazio benevolentia sia chiaro lo dico proprio perché lo sento detto questo come ci svegliamo arrivare sindaco diamo una parola sì dottore 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 dottore